Il più classico degli abiti, o forse no. Questo è un abito due bottoni, il river classico di una classe infinita, a cui abbiamo aggiunto pochi elementi, ma di grande sostanza, che lo rendono interessante e certamente non banale, come potrebbe sembrare a un primo sguardo superficiale. Intanto le tasche, due tasche a pattina e una tasca a filetto, che dà certamente un elemento di maggior ricchezza al capo. Da notare poi la taschina a barchetta, come è raffinato, le impunture su tutta la giacca, bavero, taschino, impuntura frontale e tasche, per rendere il capo, geromanica, tutto, tutto impunturato. Questo per rendere il capo maggiormente prezioso. Da notare anche il tessuto, se lo zoomiamo, questo è un tessuto meraviglioso, un 140S che ha questa trama bellissima, che di fatto è un blu, ma un blu con anima, un blu con movimento, un blu con calore, davvero bellissimo. La fodera abbinata è una fodera che è, a mio avviso, certamente ben riuscita, di un blu leggermente cangiante, leggermente più chiaro del tono del tessuto, ma che secondo me fa una stupenda figura. Nel complesso credo che sia un abito sicuramente ben riuscito e che darà grandi soddisfazioni a chi lo indossa. Spero che l'abito e che il video vi siano piaciuti. Ci vediamo da d'assarto.